Buongiorno carissimi amici radioscoltatori e un saluto anche a chi ci segue in video sulla pagina facebook dell'amico del popolo. Oggi siamo a lunedì 30 novembre e questo è il consueto appuntamento con la rassegna stampa. A farvi compagnia oggi ci sono io Martina Reolon. Andiamo quindi subito a leggere le principali notizie, principali titoli presenti sui quotidiani locali. Ovviamente una tematica che resta sempre al centro dell'attenzione è quella del coronavirus ma ci sono anche altre notizie oltre anche a un tragico incidente in montagna che ha visto perdere la vita a un uomo di 55 anni del cadore, di calanzo di cadore. Andiamo quindi subito al Corriere delle Alpi. Il titolo di apertura è dedicato al covid che cambia il bilancio regionale. 30 miliardi vanno alla sanità. È stata stanziata la cifra del piano triennale e la salute peserà per il 79% del totale. Priorità a personale, medicina del territorio, cure a domicilio e profilassi, si legge nel sottotitolo. Poi c'è un approfondimento di Filippo Tosato a pagina 6. Andando più nello specifico in provincia di Belluno c'è la casa di riposo di Ponte nelle Alpi, la casa del sole che è tornata covid free. Personale fantastico. Da ieri a quasi due mesi dallo scoppio del focolaio la casa di riposo di Ponte nelle Alpi è tornata covid free. Quindi una bella notizia. Si attende anche quello che sarà il nuovo DPCM da parte del governo. Regole di Natale strette in arrivo. Le regioni vogliono aprire la montagna. Anche su questo andremo a leggere qualcosa. Ieri anche era una giornata importante per Auronzo di Cadore con lo screening di massa e i tamponi a tappeto. Auronzo di Cadore ricordiamo colpito in modo pesante dal coronavirus. Floppa da Auronzo si legge nel titolo. Allo screening partecipa un residente su 3. Il 33% ha partecipato. Sono 358 i cittadini di età compresa tra 41 e 65 anni che hanno partecipato allo screening domenicale. E poi ancora quello che anticipavo prima. C'è stata una tragedia in Cadore. Escursionista muore a 55 anni precipitando dal sentiero. Precipita dal sentiero per 200 metri e muore. La tragedia è avvenuta sopra Pieve di Cadore a Forcella, Antracisa. Giuseppe Denardi, 55 anni, di Calalzo, ha perso la vita scivolando su un tratto ghiacciato mentre stava scendendo con un amico. Andremo poi a leggere anche questa notizia. Prima di soffermarci sugli effetti della pandemia, sul bilancio regionale, sulle regole di Natale, andiamo direttamente alle notizie che riguardano la provincia di Belluno e partiamo proprio dal tampone, dallo screening che si è svolto ad Oronzo di Cadore. Un cittadino su tre si presenta al tampone risposta soft allo screening di Oronzo. Al drive-in di Tagliarezza è 358 persone su 1.089, code di 90 minuti ma la gente non si scompone. Iniziativa lodevole. E c'è questo articolo di Valentino Suani. Sono 358 i cittadini di età compresa tra i 41 e i 65 anni che hanno partecipato allo screening domenicale organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 1 Dolomiti ad Oronzo, il paese più colpito dall'emergenza sanitaria in queste ultime settimane. Appena un cittadino su tre ha risposto alla chiamata dell'Ulss. Infatti erano convocati in 1.089 e ne sono arrivati 358. Quindi un cittadino su tre ha risposto alla chiamata dell'Ulss 1 presentandosi al drive-in di Tagliarezza. Tre i nuovi positivi, lo 0,84% dei partecipanti e impiegati sul campo 15 infermieri. La popolazione ha colto con scarso interesse l'iniziativa, si legge su Corriere delle Alpi, pensata per tracciare i positivi asintomatici in paese all'interno delle fasce più colpite dalla pandemia durante questa seconda ondata. Ore 9.30, Tagliarezza fa piuttosto freddo ma la coda delle auto in attesa del tampone è già abbastanza lunga. La sindaca Tatiana Paesbecker che si sottopone per prima allo screening. Sono tre le postazioni installate per lo screening di massa ma i volontari della protezione civile e della polizia locale bravi a gestire il flusso di auto tramite specifici percorsi di entrata e di uscita. È un'iniziativa lodevole, dice l'ex consigliere provinciale mentre attende l'esito del tampone rapido. Penso che la partecipazione sia più ampia del previsto. Ci sono poi anche alcuni altri commenti a questa iniziativa. La media di attesa al Drevin è stata di un'ora e mezza quindi si è creata anche una coda a Tagliarezza per effettuare il tampone rapido. Poche le critiche, i cittadini sono disposti a collaborare e ad attendere il tempo necessario. È un segno di grande impegno civico per abbassare la curva dei contagi, un lavoro ininterrotto da parte del personale infermieristico dell'Ulss 1 Dolomiti. E poi c'è una intervista al sindaco Tatiana Paesbecher. Serve un atto di responsabilità da parte dei nostri paesani, ha detto appunto la sindaca. Chiamiamo i cittadini un atto di responsabilità e il minimo sforzo che si possa fare per il senso civico. È così che il sindaco di Auronzo Tatiana Paesbecher commenta lo screening epidemiologico organizzato a Tagliarezze dall'Ulss 1 insieme alla regione. Spero che la microarea rossa ipotizzata venga accantonata. Dopo il picco di 243 contagi ora stiamo scendendo. Ieri eravamo a quota 156. In base alla giornata di ieri il sindaco si aspettava, considerava la giornata di ieri un momento importante per capire meglio la situazione epidemiologica. Mi aspetto che almeno il 50% dei selezionati si presenti. Questo è quanto auspica anche il Dipartimento di Prevenzione, diceva ieri intervistata la sindaca. Dopo questo tampone, questo screening di massa, quali sono gli scenari che si apriranno? La Paesbecher dice che decideranno Regione e Ulss. Nel caso si dovesse constatare numeri nuovi, numerosi nuovi contagi, è probabile che si incorra in restrizioni già adottate in precedenza nel comelico. Si tratta quindi di chiusura anticipata degli esercizi e delle limitazioni negli spostamenti. Si legge ancora nell'articolo. Torniamo un attimo indietro per leggere una bella notizia che è quella della casa di riposo di Ponte nelle Alpi, della Casa del Sole, che è tornata covid free. Gli operatori sono stati fantastici. Daniele Galantin, presidente della fondazione che gestisce la RSA di Ponte nelle Alpi, dice abbiamo perduto 10 ospiti. L'articolo è di Paola Dallanese. Da ieri, a quasi due mesi dallo scoppio del focolaio, la casa di riposo di Ponte nelle Alpi è tornata covid free. Lo era stata per tutta la prima ondata di coronavirus nella primavera scorsa, poi ai primi mesi di ottobre. Ai primi di ottobre il contagio si è insinuato tra gli ospiti e i dipendenti, mettendo in grande difficoltà la struttura. Ci è voluta tutta la buona volontà, la dedizione e lo spirito di sacrificio dei dipendenti per avere ragione di questo virus, che si è lasciato dietro ben 10 vittime tra gli ospiti. La notizia è che l'allarme è rientrato, arriva dal primo cittadino di Ponte nelle Alpi, Paolo Vendramini, ma a descrivere cosa hanno significato questi due mesi di lotta contro il covid-19 è Daniele Galantin, presidente della fondazione Casa del Sole, che gestisce il centro servizi. Era all'inizio di ottobre quando la situazione è degenerata, ricorda, prima c'è stato il focolaio di Cortina, subito dopo è arrivato il nostro, racconta. Stamattina, a ieri per chi legge, tutto personale è stato sottoposto al tampone rapido che ha dato esito negativo per tutti. A casa resta un unico dipendente che si sta negativizzando. Gli ospiti sono tutti rientrati, purtroppo in questi due mesi ne abbiamo persi 10, ricorda Galantin. Qualcuno ha sofferto molto per l'isolamento, per il fatto di essere stato cambiato distanza, qualche altro ha iniziato a mangiare di meno. Ma ora gli operatori hanno ripreso i contatti con i familiari e da domani si potrà iniziare a prenotare le prime visite tramite la vetrata. Ci auguriamo a breve di poter riaccogliere altri anziani. I mesi sono stati difficili, non l'ha nascosto Galantin. In questo periodo la colonna portante della nostra struttura è stata la coordinatrice, sempre presente con grande abnegazione, ma anche gli altri dipendenti non sono stati da meno, sempre presenti e pronti a sacrificarsi per il bene dei loro anziani. Nella foto si vede una scena simbolo dell'emergenza delle case di riposo del Veneto, un abbraccio tra un ospite e un suo familiare con tutta una serie di precauzioni, con un telo che impediva la diffusione del contagio. Ieri non è mancato il consueto bollettino di Azienda Zero, i dati poi diffusi dall'Ulss Dolomiti. Una settimana pesante, morti 22 pazienti positivi, questo è il bilancio dell'ultima settimana. 22 pazienti positivi, il totale che deriva anche dai 4 decessi che si sono verificati tra sabato e domenica. Ad aver perduto la battaglia contro il virus sono state una donna di 81 anni ricoverata all'ospedale di comunità di Agordo e altri 3 pazienti del San Martino. Due anziani di 89-83 anni, degenti della pneumologia e una donna di 77 ricoverata in malattie infettive. Da lunedì scorso a ieri i decessi per Covid negli ospedali provinciali sono stati ben 22, numeri che parlano di un attacco frontale da parte del virus agli anziani, soprattutto a quelli ricoverati nelle case di riposo, persone già di per sé fragili. Ma non dimentichiamo che ci sono stati fra i decessi anche persone non anziane, basti pensare a una persona di 55 anni o diverse persone sotto i 70 anni di età. Andiamo avanti e ci spostiamo direttamente, anzi prima leggiamo ancora un paio di notizie nelle pagine regionali e nazionali che riguardano l'emergenza in Italia e quel che accadrà nei prossimi giorni. Le regioni al governo aprite le montagne è scontro sulle regole. Il DPCM con la stretta per le festività e atteso entro 24 ore frenano i contagi. Toti i ristoranti riaprano anche alla sera, speranza ora basta leggerezze. E c'è un approfondimento che riguarda quelli che sono i nodi da sciogliere. Nell'esecutivo c'è chi sta valutando la soluzione già dotata dalla Francia, parliamo in questo caso delle seconde case in vista delle festività, permettere di raggiungere le abitazioni in montagna ma con impianti scistici e ristoranti chiusi per evitare assembramenti. Per quanto riguarda i rientri dall'estero, a ritorno in Italia da un paese estero potrebbe esserci la quarantena obbligatoria e comunque il tampone obbligatorio. Per gli spostamenti il governo sta pensando a un divieto di spostamento a partire da un giorno non ancora fissato a ridosso delle festività natalizie, potrebbe essere il 19, il 21 o anche il 16. E c'è il timore di una terza ondata. La voce si è sparsa in ambienti vicini al sindaco di Milano, Giuseppe Sali, in questo caso un possibile rinvio delle amministrative. Non è detto che in primavera si voti per eleggere i sindaci. Quindi come dicevamo il nuovo DPCM è atteso entro 24 ore e conterrà le regole per il Natale. Riparte braccio di ferro come da tradizione, si legge nell'articolo tra governo e regioni. I dati di ieri confermano la frenata dei contagi, ancora molti però i decessi. Calano i ricoverati in terapia intensiva, stiamo parlando ovviamente sempre di dati nazionali e anche i ricoverati meno gravi, quelli appunto che non hanno bisogno di cure intensive. Ma il timore di innescare subito una terza ondata è forte nel governo e nel comitato tecnico scientifico e non si vuole in nessun modo ripetere l'errore dei mesi scorsi. Quindi vedremo cosa si deciderà con il nuovo DPCM e una delle tematiche cruciali che stanno suscitando discussioni, polemiche, un nuovo braccio di ferro tra governo e regioni è quello delle scuole, il caso scuole, l'idea sulla riapertura ai presidi non prima di Natale. Le regioni vanno in ordine sparso sul ritorno in aula per le seconde e terze medie. La ministra Bonetti insiste si torni gradualmente in classe da dicembre, è un argomento di cui abbiamo parlato anche l'altro giorno. Anche lo stesso ministro all'istruzione pubblica, la Zolina, vorrebbe il ritorno già a dicembre, mentre diversi presidenti di regione, tra cui anche il presidente del Veneto Luca Zaia, preferisce il ritorno dopo Natale, considera rischioso un ritorno in aula già da dicembre, in questo caso ovviamente per le scuole superiori. Siamo a pagina 5 e arriva in extremis i ristori 4, il decreto e legge la moratoria fiscale. Il decreto allarga il bacino di beneficiari dello scostamento di bilancio da 8 miliardi, contributi una tantum per operatori precari dei settori turismo, spettacolo e sport. Arriva in extremis la formalizzazione da parte del governo del maxirinvio delle tasse in scadenza oggi e delle dichiarazioni dei reti. Assieme a questo intervento attesissimo da tante imprese, il governo con il decreto Ristori 4, varato ancora una volta nel cuore della notte, mette in campo altri contributi una tantum per gli stagionali del turismo, dello spettacolo e quegli impiegati con contratti precari nel settore dello sport. E quindi per far fronte alle pressanti richieste delle associazioni del commercio, anche gli agenti di commercio vengono ammessi ai ristori automatici da parte dell'agenzia delle entrate. E c'è anche una sintesi delle misure, il di razioni fiscali per tutti i dieci giorni, 30 aprile altri casi. Gli agenti di commercio come dicevamo sono ammessi ai ristori e ci sono contributi o una tantum con bonus di 1000 euro agli stagionali. Per chi volesse approfondire c'è questo articolo a pagina del Corriere delle Alpi. Tornando alle pagine provinciali, la triste notizia, la tragedia che si è verificata ieri a Pieve di Cadore. Precipita per 200 metri, muore uno scorsionista di Calalzo. Il 55enne Cadorino stava scendendo con un amico e ha perso l'equilibrio su un tratto ghiacciato a forcella, antracisa. L'articolo è di Gigi Sosso. Precipita dal sentiero per 200 metri e muore. Tragedia in montagna ieri pomeriggio sopra Pieve di Cadore. Giuseppe Denardi, 55 anni, di Calalzo, ha perso la vita scivolando su un tratto ghiacciato mentre stava scendendo in compagnia di un amico. Erano le 15.40 quando è scattato l'allarme con una telefonata numero 118 fatta dal compagno di escursione ancora ancorato a un albero. Ma per Denardi purtroppo non c'è stato nulla da fare. Un epilogo drammatico di una bellissima domenica di sole che era cominciata con un'escursione fino ai 1693 metri della forcella nella zona del rifugio Antelao. E secondo una prima ricostruzione di un conoscente era proseguita con un pranzo in famiglia nella baita di Eugenia Coletti, la moglie di Denardi. Nel pomeriggio l'uomo invocato sentiero in compagnia di un amico che lo precedeva, mentre stavano scendendo, ha perso improvvisamente l'equilibrio, è caduto su un ripido versante erboso reso gelato dalla temperatura rigida. L'altro l'ha visto sparire in basso e ha continuato a chiamarlo nella speranza di avere anche solo una flebile risposta. È sceso a sua volta di una quarantina di metri ma non sarebbe mai stato in grado di raggiungere Denardi e allora si è fermato addosso a una pianta e ha chiamato i soccorritori. L'elicottero del 118 è decollato dalla piazzola dell'ospedale Giovanni Paolo II di Pieve di Cadore e ci ha messo pochissimo tempo per raggiungere l'obiettivo. L'eliambulanza si è avvicinata e ha imbarcato un soccorritore di Pieve che stava salendo in fuoristrada. Hanno quindi iniziato a sorvolare il pendio fino a quando, circa 200 metri sotto il sentiero, non è stato individuato il corpo. Sbracati con un verricello tecnico di alisoccorso, soccorritore medico, a quest'ultimo non è rimasto che constatare il decesso e informare il magistrato. Giuseppe Denardi lavorava da tempo come tecnico in un'occhialeria del Cadore, viveva a Calalzo con la moglie Eugenia e i figli Alessia e Pietro. Era una persona molto conosciuta e apprezzata in paese e la notizia della sua morte ha provocato una grande commozione. C'è poi un articolo di appoggio, sempre di Gigi Sosso, che riprende il ricordo del sindaco Luca De Carlo, grande appassionato di camminate in quota e uomo molto stimato. Famiglia, lavoro e montagna. Giuseppe Denardi ha perso la vita su un sentiero sotto l'antelao che conosceva molto bene. Su profilo Facebook della moglie ci sono molte foto che ritraggono una famiglia felice impegnata in un'escursione in quota. Il 55enne tecnico in un'occhialeria era una persona che a Calalzo conoscevano tutti. Era indubbiamente molto popolare e stimato nel nostro paese, sottolinea il sindaco Luca De Carlo. Per un certo periodo siamo stati anche vicini di casa. Viene da una famiglia numerosa che vive all'interno della nostra comunità ormai da diverso tempo. So che ieri era salito in quota per un pranzo con i parenti ai quali era molto legato. Denardi conduceva una vita del tutto normale, scandita dal lavoro e quando poteva andava in montagna. Ci dispiace tantissimo e siamo il più possibile vicino ai familiari. Non sappiamo ancora quando si svolgeranno i funerali. Questo è il ricordo del primo cittadino di Calalzo. Vediamo se leggere ancora un articolo sul Corriere delle Alpi o passare al Gazzettino. Leggiamo un articolo a pagina 16, cambiando argomento, che riguarda i controlli per il rispetto delle misure anti-Covid. Due locali chiusi e 14 ragazzi sanzionati. In un bar, gestore e clienti senza mascherine, 120 persone in un supermercato dove la capienza massima è di 90. Un bar e un negozio di Belluno chiusi per 5 giorni. 14 ragazzi sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Un sabato intenso per le forze dell'ordine di Belluno che dalle 14 alle 20 hanno portato avanti il servizio straordinario interforze di controllo del territorio. Un'operazione disposta durante gli incontri del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza e coordinato dalla Questura di Belluno. Svariati i controlli effettuati sabato. Sotto la lente di ingrandimento è finita la centralissima via Sottocastello a Belluno, teatro cornice tra parentesi di altri episodi, dove è stato trovato un gruppo di 14 giovani, molti dei quali minorenni. I ragazzi sono stati tutti sanzionati perché stavano creando assembramento. La sanzione scattata per ciascuno è stata di 400 euro. Come se non bastasse, durante i controlli alcuni dei giovani sono stati trovati a consumare bevande alcoliche. Per quanto riguarda gli esercizi pubblici, i controlli sono proseguiti all'interno di un bar della frazione di Fiammoi, siamo sempre a Belluno, dove sono stati trovati i gestori e alcuni avventori sprovvisti di mascherina e immediata è scattata la sanzione. Infine i carabinieri di Belluno, sempre nel tardo pomeriggio di sabato e sempre all'interno dei controlli anti-covid, hanno trovato in via Tiziano-Vecelio un emporio al cui interno c'era un numero maggiore di persone, di clienti, rispetto a quanti previsti in base alla metratura, secondo l'ordinanza emessa pochi giorni fa da presidente Luca Zaia. Quindi è stato accertato che il titolare dell'esercizio commerciale MP Market, con sede legale a Conegliano e sede operativa a Belluno, ha omesso di controllare e di lazionare gli ingressi. C'erano infatti all'interno 120 persone, anziché la capienza massima di 90. E sono stati fatti controlli anche lungo i percorsi più frequentati dai turisti, in montagna, anche sulle aree intorno alle Trecime e al rifugio a Uronzo. I carabinieri hanno controllato appunto l'area, quella delle Trecime del Monte Paterno, dove c'era una trentina di veicoli parcheggiati prima della sbarra. Circa 50-60 persone sul percorso del giro delle Trecime. Nessuno era presente invece sulla ferrata del Monte Paterno. I controlli non hanno evidenziato alcuna irregolarità. passiamo al gazzettino e andiamo a vedere anche le notizie pubblicate su questo quotidiano. Ci spostiamo direttamente alle pagine relative alla provincia di Belluno e potremo vedere anche che il titolo scelto a proposito dello screening, dei tamponi di massa fatti ad Auronzo è un po' diverso rispetto a quello scelto dal Corriere delle Alpi. Il Corriere delle Alpi parlava di un flop, di una risposta soft. Invece qui si legge in fila per sconfiggere il focolaio. Tamponi di massa ieri ad Auronzo di Cadore. Il fatto che abbia risposto 33% della popolazione per l'US è stato sufficiente. Contagio in spegnimento è stato detto soddisfatta anche la sindaca. Buona risposta dei cittadini e dopo andremo a leggere all'interno l'articolo. Dalla prima del gazzettino si legge anche qui giù nel canalone per 200 metri muore 55enne. Stiamo parlando del calaltino Giuseppe Denardi di cui abbiamo appena letto prima la tragica notizia. E poi ancora troppi clienti, market chiuso, sanzionati 14 ragazzi. Anche questa è la notizia che abbiamo appena letto. A Roccapietore per quanto riguarda turismo e sci nella regina si accendono le fiaccole. A Longarone, Longarone Fiere cambia nome e diventano Dolomiti. Si chiamerà Longarone Fiere Dolomiti. Oggi è previsto passaggio in consiglio provinciale chiamato anche ad approvare la proroga della società per altri 30 anni. Andiamo quindi all'interno. Uno su tre per il test sufficiente, focolaio in via di spegnimento. Si legge vedendo appunto una differenza rispetto a come è stata affrontata la notizia sul Corriere delle Alpi. Gente in coda un'ora prima dell'avvio ma si sono sottoposti al tampone in 358. Tre le persone trovate positive. Il sindaco un dato che è confortante. L'articolo è di Davide Piol. È stata del 33 per cento la partecipazione dei cittadini di Auronzo ai tamponi di massa. I drive-in erano posti ad accogliere poco più di mille persone e ce ne sono presentate 358. Di queste tre sono risultate positive. Un dato decisamente basso si è confrontato con la partecipazione di sabato nei comuni del Friuli in cui c'è stata la stessa iniziativa. A Cimolai se si erano presentate 210 persone sul 360. A Erto e Casso 200 sul 370. Quindi una percentuale molto più elevata. A Barci se si era sfiorato addirittura l'80 per cento dei cittadini. Mai sotto il 50 per cento in ogni caso. Malus Dolomiti rassicura sul dato bellunese. Dice i numeri sono sufficienti. Siamo soddisfatti. Abbiamo letto anche prima la notizia sul Corriere delle Alpi. Quindi non indugio ancora su questo argomento. Per quanto riguarda le case di riposo. Si legge nel titolo a pagina 3 del Gazzettino di Belluno. Carano i contagi ma troppe vittime. A Santo Stefano Di Cadore. Il focolaio nella casa di soggiorno. Giovanni Paolo II. Si sta lentamente spegnendo. Sei le vittime della pandemia. Il comune ha diffuso ieri una nota con gli aggiornamenti in cui dedica parole specifiche per la situazione relativa agli anziani. Sei vittime quindi come si diceva. Il sindaco parla anche di come la situazione è evoluta nel tempo e come quella attuale sia in miglioramento. Certo non ne siamo ancora fuori. Dice però si notano i miglioramenti. L'osservanza anche se costa sacrifici di tutti e le linee guida sia quelle ministeriali che quelle regionali sta dando i suoi frutti. E come leggevamo prima appunto nelle Alpi il focolaio si è spento. Sono tutti negativi sia i pazienti sia gli ospiti che gli operatori. A Limana abbiamo fatto i test molecolari a tutti gli ospiti. Attendiamo i risultati. Dice il vice sindaco e assessore sociale di Fontana. È quasi tutto rientrato e quindi abbiamo fortunatamente ripreso a fare anche una serie di attività compresa l'animazione. Dice appunto il vice sindaco. Un accordo tra luxottiche comune per i tamponi al pala ricolta di sedico. Si legge in un articolo di Gio Pazuc. I tamponi per accertare la positività al covid-19 si potranno effettuare anche al pala ricolta. Il servizio non sarà fornito a tutti ma andrà ad indirizzarsi comunque ad una parte significativa della popolazione locale. Il comune di sedico e luxottiche infatti hanno sottoscritto e avviato un accordo di cooperazione per l'effettuazione di campagne di screening ai familiari dei dipendenti e collaboratori in servizio negli stabilimenti di luxottica che occupano circa 2.500 persone. Il progetto avrà scadenza solo al termine dell'emergenza epidemiologica. Con questo accorto a fronte della messa a disposizione gratuita da parte del comune e degli spazi del pala sport, luxottica si impegna ad ammettere alle campagne di screening periodiche anche i dipendenti e collaboratori del comune di sedico su base volontaria e senza oneri appunto per il comune. L'articolo è nel taglio basso di pagina a pagina 3 dell'edizione di Belluno del Gazzettino. Andiamo avanti. Anche questo lo abbiamo letto prima in un lancio sempre qui sul Gazzettino. Longarone Fiere si amplia e aggiunge il nome Dolomiti. Oggi il Consiglio Provinciale vota la proroga della società fino al 2050. Il presidente padrì nel momento difficile adesso importante il ruolo di tutti i soci. Longarone Fiere cambia nome e si chiamerà Longarone Fiere Dolomiti. Oggi è previsto il passaggio in Consiglio Provinciale chiamato anche ad approvare la proroga della società in scadenza a fine anno per altri 30 anni. L'Assemblea della Società è convocata per domani alle 17 e in seconda convocazione giorno 9. A non cambiare invece l'assetto societario. Comune di Longarone e provincia di Belluno manterranno le loro quote. A mantenere le loro quote saranno anche i privati. L'obiettivo è ripartire dopo la pandemia che non sarà per nulla semplice. Ad ammetterlo è lo stesso presidente, sindaco Roberto Padrin. Sarà sicuramente difficile ripartire. Servirà la serenità di visitatori ed espositori. Il rilancio non sarà semplice ma se tutti i soci ci metteranno del loro sono convinto che Longarone Friere potrà ripartire. Andiamo avanti e leggiamo ancora una notizia che riguarda Rocca Pietro e di cui appunto guardavamo prima il lancio. Un cuore sulle piste e la stagione dello sci resta ancora in bilico. Sabato manifestazione degli operatori sotto la marmolada alla vigilia dell'avvio degli impianti bloccati in attesa del DPCM. Un segnale di speranza per una stagione turistica densa di nubi nere sale dalla marmolada. È stato lanciato sabato dagli operatori turistici della Val Pettorina che hanno voluto disegnare un cuore con le fiaccole poste sulla neve. Una foto simbolo rilanciata anche da presidente della regione Luca Zaia sui suoi canali social. Ponendo sempre a primo posto la tutela della salute, si leggeva ieri nel post, ieri sera gli operatori della montagna si sono riuniti sotto la marmolada alla vigilia dell'avvio della stagione sciistica per chiedere al governo delle risposte che ancora non hanno. Vista la situazione precaria della stagione e la preoccupazione forte per l'intero indotto dell'area montana, hanno scelto di disegnare un cuore con le fiaccole accese come segnale di vita, salute e lavoro. E purtroppo questa è una stagione turistica che parte già traballante viste le incertezze sull'apertura stesse degli impianti e delle piste. L'articolo è di Dario Fontanive. Si sta cercando comunque una soluzione in vale per poter aprire, se il nuovo decreto lo consentirà, questa pista di sci nordico per non rinunciare anche a questa offerta turistica. Il DPCM di primavera equiparava e vietava lo sci nordico come quello alpino e quello atteso non si sa ancora quali regole, l'atteso decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, non si sa ancora quali regole o direttive indicherà per lo sci nordico. Con questo articolo chiudiamo l'appuntamento di oggi con la rassegna stampa, vi invitiamo a seguire le notizie che pubblichiamo ora dopo ora in costante aggiornamento sul nostro sito internet www.amicodelpopolo.it. Intanto a tutti un sereno lunedì, un buon inizio di settimana e a prestissimo. Grazie per l'ascolto, buona giornata.